non mi abbraccio fronte ciao buongiorno buonasera grazie di essere qui con me oggi oggi so che hai prenotato un trattamento un trattamento per liberare questa zona di caldo estremo per riuscire ad addormentarti e per riuscire a rilassarti con l'aiuto appunto di un trattamento fresco non sarà prettamente estetico ma sarà proprio una coccola che ti andrà a fare un trattamento completo e se vorrai poi valore la registrazione di questo trattamento così potrai riguardarlo ogni volta che avrai caldo e farai fatica a dormire ok? benissimo io comincerei offrendoti qualcosa da bere non so se senti questo frizzontino ho quattro proposte per te oggi sembra se ti vanno bene altrimenti ne ho ovviamente anche delle altre però le proposte più amate sono acqua frizzante in genere ben ghiacciata o anche del ghiaccio qui con me il suono dell'acqua frizzante fa parte di questo trattamento sensoriale adoro questo suono come vedete è bella, fresca quindi ho occasione poi invece le opzioni un pochino più particolari sono ti posso fare una bevanda fredda al matcha con latte da vena o latte di riso o insomma la bevanda che preferisci azzà è diciamo così un tè per me come gusto è un misto fra tè verde e cacao che io vado a mischiare con acqua e poi vado a diluire con della bevanda vegetale a tua scelta è molto buono molto rinfrescante se non l'hai provata non so se consigliartelo adesso che magari potrebbe anche non piacerti non so però è molto interessante magari prima o poi ti inviterò a provarlo all'interno è fatto così ok ok secondo me così riesci a vederla e questa polvere in avento appunto viene mischiata con l'acqua e poi io la mischio con l'acqua vegetale la mescolo la diluisco con il latte vegetale e questa è la prima 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 opzione la seconda è questo questo è bello fresco ed è bello di sedante e si tratta di acqua di cocco latte di cocco come lo vuoi chiamare bevando il gusto di noce di cocco questa ti porterà proprio su una spiaggia tropicale come vedi viene direttamente dall'asio come puoi sentire? è bello bello fresco quarta opzione sempre simile sempre molto un'opzione tropicale è questo succo delizioso al mango nel mio caso dell'acqua dell'acqua non la d carre quindi Mango Nectar Nectar di mango Dimmi cosa preferisci se c'è qualcosa che vorresti assaggiare La bevanda al cocco Perfetto assolutamente, una magnifica scelta Per prima cosa vado a mettere nel tuo bicchiere anche del ghiaccio Ecco qua una bella quantità in modo che sia freschissimo Che rimanga freschissimo Che meraviglia Che rimanga Ha proprio l'aspetto dell'arte Allora io devi chiudere gli occhi e di ascoltare il suono degli agi perché fa parte dell'esperienza sensoriale ok tutto tuo prova ad assaggiare per sentire se ti piace ti piace e sono stra contenta benissimo l'avete l'appoggio qui di fianco prima di cominciare proprio il trattamento sul viso o anche a parte che se posso mi verso un bicchiere d'acqua perché anch'io perché anche io ho bisogno un pochino di trattarmi grazie a l'appoggio 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 un po' più fresco e qualcosa invece di un pochino più sfizioso cominciamo dallo sfizioso ho questo snack come vedi ho un pochino di cose asiatiche come ho questo snack che sono anche sì ricoperti di cioccolato al matcha però questi veramente sanno più che altro di cioccolato non ti preoccupare sono molto buoni è uno snack molto gustoso perché proprio lo sgranocchi mentre ti rilassa a me piacciono molto sono appunto grissini ricoperti di cioccolato un po' romatizzato poi poi come snack un pochino più salutare molto fresco ho questo mix di melone e anguria aspetto che te ne prendo un pezzo prendo un nuovo stuzzicadente lungo così puoi puoi prenderli piacevolmente abbiamo appunto dell'anguria appena tagliata freschissima e se il melone bianco ti faccio assaggiare l'anguria aspetto che ti prendo un pezzo bello croccante aspetto che ti prendo un pezzo assaggio pure com'è ah bene sono contenta ti faccio assaggiare anche il melone bene mi ho preso un pezzo un po' grande aspetto ecco qua a te com'è bene bene allora anche questo ti metto uno per l'anguria e uno stuzzicadente per il melone e ti lascio qui di fianco così puoi mangiarli ogni tanto come ultimo snack che ti propongo ti propongo qualcosa di ancora un po' particolare ma che sono sicura ti piacerà è uno snack che per me d'estate è indispensabile ce l'ho sempre in congelatore e sto parlando dei mochi adesso te li faccio vedere cosa sono i mochi sono sempre un dolce non vorrei dire una cavolata è sempre orientale ma non saprei di che paese ancora è o Giappone non lo so quindi non è non non dare questa notizia per certo io ho due opzioni per te wow oggi questi sono ho il gusto tropical quindi vedi che i gusti ritornano sempre c'è sempre un filo che lega tutto il trattamento questi sono anche senza latticini fondamentalmente dentro c'è del gelato in questo caso il gusto tropicale quindi frutto della passione e fuori c'è questo strato di riso glutinoso è uno strato dolce elastico un po' piccicoso cioè che dà un po' l'effetto morbido parla elastico che racchiude dentro il gelato è un qualcosa di spettacolare te lo faccio vedere eccolo qui e all'interno appunto ha questo gelato si intravede il colore questo gelato colore giallo e all'interno si intravede il colore del gelato appunto il frutto della passione che è giallo ti mostro anche un altro gusto che non lo so io lo preferisco per te meglio questo col la bevanda che hai scelto quindi deciderai tu moji al cioccolato questi sono incredibili incredibili sono ancora aperti le appunto sono della marca Little Lones e appunto sono questi piccoli dolcetti hanno anche il cacao sopra e dentro hanno appunto questo gelato al cioccolato dimmi te se lo vuoi al cioccolato li apro altrimenti li rimetto ti va vera il frutto è la passione ok effettivamente sta un po' anche meglio con tutto ciò che che hai deciso di mangiare di bere ok spero davvero tanto che sia di tuo gradimento ci tengo tantissimo puoi saperlo ok adesso che hai tutti 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 i tuoi snack le tue bevande hai tutto a disposizione io comincerei ad asciugarti un pochino il viso e a lavartelo con delle salviette struccanti ok molto bene allora ti tiro su un attimo i capelli e vado un attimo prima sulla fronte per asciugare un pochino il sudore che è normalissimo avere qui assolutamente ce l'abbiamo tutti un attimo l'abbiamo e l'abbiamo un attimo Grazie a tutti Prendo un'altra salvietta e ti asciugo invece i lati del viso e ti strucco un pochino gli occhi So che al momento non hai trucco su di te però insomma tolgo un pochino i residui Sì ti avevo chiesto di arrivare a punto comunque con il viso pulito E vado anche sui lati del viso Ok vado delicatamente appunto sui lati del viso E un pochino anche sul collo Sul collo Sul collo Come va? Stai già meglio? Ne sono sicura E sono molto contento Un pochino sul naso che tende sempre a sudare Che è un po' sotto la bocca E infine sugli occhi Hai tolto il trucco molto bene Comunque non c'era molto residua Infatti vedi che è tutto pulito Molto bene Molto bene Stupendo 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 Lo so è una bella coccola eh Ok Gli ultimi passaggi Molto 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 Bene Adesso voglio proporti due tipologie di maschere differenti Di maschere differenti Eccoli qui Entrambe Sono maschere perfette Per questo periodo dell'anno E sono maschere appunto dopo con Che hanno bisogno di risciacu Quindi andrò a togliarle Sempre con queste salviette Si tolgono tranquillamente Allora Ti propongo due trattamenti Il primo È questa Bellissima Guarda il colore Dentro è proprio verde La togliamo Questa Maschera Detox Eclati Imperfezione Contiene Tè verde Lime 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 E acqua Attiva Di bambù È appunto un effetto Purificante E astringente Sulla pelle È un trattamento che Soprattutto d'estate Io faccio spesso Perché mi trovo un pochino I puri dilatati O comunque la pelle Un pochino più Rossa Rossa Rispetto al mio solito La seconda opzione che ti voglio proporre Questa è un po' particolare Questa è un po' particolare Ma mi piace tantissimo È un'opzione che propongo Assolutamente Solo d'estate Questa è una maschera Tonificante E con effetto Freddo E quando dico effetto Freddo È proprio effetto Freddo Ti rinfrescherà Completamente Il viso Arriverai Forse quasi a sentire Un punto freddo Sul viso Ma un freddo Piacevolissimo Per essere in contrasto Con tutto il resto Con l'aria calda E col corpo comunque caldo Contiene minta Zenzero Limone Pompelmo E aranzo dolce Dove si va di scegliere? Ti vorrei scegliere questo però Ovviamente dipendente Vuoi provarla? D'accordo? Anche questo rispe Il colore della confezione Guarda che meraviglia È così Gialla Adesso Vado a metterla Su un pennello Ok E vado a spermartela Pian piano Sul viso Sto evitando Ovviamente La zona pericolare E la zona Del labbro Vado Vado A spalmarla Su Su Toc 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 Front Compte Toc 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 sul naso sul naso anche sui lati sulle guagge e anche un po' più giù dall'altra parte e anche la delizio sulla macella fra il naso e la bocca io so sulla bocca ok per così passano un po' le relazioni in cuore si è sformato peggio ok ne va un po' anche sul collo d'accordo? vado un pochino anche sul collo lo so questo effetto fresco è incredibile troppo piacevole vado un pochino ok e adesso? e adesso? aspettiamo adesso per il resto del corpo che comunque è ancora incaldato mi andrò a fare aria mentre aspettiamo appunto che la maschera faccia il suo effetto voglio proporti due tipi di ventaglio che fanno un cento d'aria un pochino diverso il primo questo cuore è stupendo super fresco fa un'aria un pochino più distribuita in generale un certo un pochino più delicato e appunto si distribuisce meglio sul corpo lo senti? è il fresco? invece l'altro ventaglio è un pochino più potente quindi fa più aria è meraviglioso è questo ventaglio di carta che non parte queste scritte viene all'altro questo disegno che sembra quasi acquerello è molto più forte il centro un pochino più diretto un pochino meno distribuito quindi un pochino più diretto verso una certa zona del corpo e fa anche questo suono che può piacere oppure piacere quale accento preferisci? quello blu ok benissimo allora andrò un pochino a spettagliarti un po' si è liso sia a braccio a cappe ok? dammi le braccia un altro braccio un pochino le gambe un pochino dietro un pochino sul collo e dietro la testa sul gubbino un pochino un pochino sul collo e dietro un pochino sul collo un pochino sul collo e dietro che lo so che è piacevole che lo so che è piacevole che gli occhi se vuoi immagina che ci sia una brezza fresca che aggarezza la pelle mentre tu sei al mare e stai sorseggiandolo tutte le gambe stai mangiando la frutta buonissima un pochino un pochino un pochino un pochino un pochino un pochino Sì, secondo me, d'accordo, adesso prima di rimuovere la maschera voglio fare una piccola visualizzazione, un piccolo esercizio di visualizzazione con te, non so se hai mai provato a fare un esercizio di visualizzazione, ti chiedo di chiudere gli occhi, chiudere gli occhi, chiudere chiudere gli occhi e immaginare di essere in una giungla e quindi essere circondato da piante bellissime, da un verde infinito, dalla natura più pura e più bella, ma sei in un resort di lusso in mezzo alla giungla, quindi se sei tutto nel tuo lettino, hai davanti che è una piscina e in sottofondo senti questo, poi deciderete cosa sono? Può essere il diverso di un uccello, il richiamo di un uccello, o può essere una cascata, un moricello, di un uccello che passa lì vicino, può essere addirittura l'acqua nella vicina, un pochino mossa, associa questo suono a ciò che preferisci, senti una brezza fresca che viene e senti il rumore del del vento che passa tra le piante, tra gli anni, tra le liane, tra le foglie, sei al sicuro, sei in completo relax e sei con la persona che vuoi o anche in solitario, io sarei in solitario e goditi la sensazione di essere qui per un attimo ancora e lasci andare tu delle tensioni accumulate in questi giorni, in questo periodo, lasci andare tu dove devi respiri, senti l'aria pulitissima un buon metodo per capire se si è completamente rilassati, se si sta rilasciando tutto e sentire il proprio viso, prova ad attivamente rilasciare i muscoli del viso lascia che la lingua si appoggi alla bocca, lascia che le guante si abbassi ok, le spalle, le gambe fino alla punta dei piedi ci stiamo ancora un attimo questo paradiso terrestre adesso adesso concentrati solo questo suono che senti da dove viene da dove proviene da dove proviene da dove proviene piano 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 concentrati solo su questo suono e riapri gli occhi come stai? hai visto? hai visto? questo piccolo cactus ha un suono veramente incredibile adesso vado a toglierti la maschera rimuoviti la maschera con un altro un altro salvietto e se vuoi raccontami le tue sensazioni come stai ora se stai meglio o peggio rispetto quando sei arrivato qui come si sente il tuo corpo come si sente la tua mente le tue sensazioni corporee com'è il tuo respiro il tuo battito guarda di nuovo questo piccolo asso già il viso mentre lì guarda di nuovo mentre lì guarda di nuovo molto bene ancora un pochino sulla fronte molto bene molto bene io qui ho finito puoi restare qui se vuoi un altro po' ti lascio a questa sensazione di relax e completo abbandono io spero davvero questo trattamento ti abbia rilassato ti sia piaciuto ti abbia rinfrescato davvero e se vorrai suggerirlo a qualcun altro che pensi che abbia bisogno di questo trattamento ne saremo felicissimi in base alle stagioni i trattamenti cambiano quindi magari se vorrai potrai tornare qui a ottobre a gennaio aprile comunque vorrai noi ti accoglieremo io ti ringrazio ti mando un abbraccio e buon relax